Ok, l'obiettivo di oggi è quello di raccontarvi una storia e cioè di come da una domanda molto banale ci si possa imbattere in questioni geopolitiche, di sicurezza nazionale e di equilibri economici tra Stati Uniti, Cina ed Europa. E io ancora mi chiedo come mai all'interno dell'opinione pubblica non si stia parlando di questi argomenti, in quanto oltre ad essere estremamente interessanti, come vi dicevo, possono avere delle implicazioni molto importanti nel futuro. Ma partiamo dall'inizio. Qualche giorno fa infatti mi sono chiesto come mai, dopo mesi dal lancio della PlayStation 5, ancora oggi ci siano numerose difficoltà nel riuscire a comprare una di queste console. Ebbene, dopo 5 minuti di ricerca su internet, il sito Tom's Hardware, che è un sito che tratta tecnologia e videogames, mi dice che, oltre alla grande richiesta di console da parte del pubblico, Sony sta riscontrando non poche difficoltà nel produrre la PlayStation 5, in quanto mancano semiconduttori e altre componenti per poter produrre questa console. Ma cosa sono questi semiconduttori? Molto banalmente, e qui quindi consiglio agli ingegneri o agli esperti di informatica di tapparsi le orecchie, sono sostanzialmente il cervello di qualsiasi dispositivo elettronico. Praticamente permettono a questi dispositivi di compiere determinate azioni. E così, in quel giorno, sono riuscito a togliermi questa curiosità riguardo la console, la scarsità di questa console. Ora, molto francamente, a me della console non è che interessa più di tanto. Come vedete, io faccio parte della PC Master Race, ma questa scarsità di semiconduttori potrebbe essere un'altra risposta al fatto che io abbia ancora, come scheda video, una 2070, e non la mia tanto agognata 3070, che ad ottobre mi era stata promessa al costo di 500€. E quindi così la mia curiosità aumenta e decido di approfondire questa questione. E quindi mi chiedo, ma allora perché mancano questi semiconduttori? Così scopro che i principali produttori di questi semiconduttori sono due. La TSMC, che ha sede a Taiwan, e la famosa Samsung. E praticamente la Sony, come la stessa Nvidia che produce le schede grafiche, producono il design di questi semiconduttori. E poi queste aziende, cioè la Samsung, la TSMC, vanno effettivamente a produrre l'elemento finale. I miei sospetti erano fondati. Infatti, leggendo qualche articolo si scopre che la mancanza di semiconduttori in realtà non è solo una caratteristica delle PlayStation 5, ma è abbastanza diffusa all'interno di un po' tutti i settori. E le cause sono molteplici. Innanzitutto, Covid-19. Marzo 2020. Le persone entrano in lockdown e tutto quello che facevano prima lo si fa in maniera digitale. Si lavora da casa, si studia da casa e la richiesta di videogiocare aumenta di smisura. E così aumenta anche la domanda di nuovi computer, tastiere, mouse, videocamere, microfoni. Allo stesso tempo i server si intasano e quindi aumenta la richiesta di avere più server per soddisfare questo gran numero di persone che entrano nel mondo digitale. Tutti questi dispositivi digitali che hanno subito un grande incremento di domanda hanno come base comune i semiconduttori, che ovviamente vanno a ruba. Inoltre, queste aziende che producono questi dispositivi per paura di finire questi semiconduttori e quindi praticamente fermare la loro produzione, aumentano ulteriormente questa domanda di semiconduttori, cercando di fare un gran numero di scorte proprio per preservare la produzione nel futuro. A tutto questo trambusto che fai? Non ce lo aggiungi un buon Trump? Infatti l'amministrazione Trump a metà 2020 inasprisce le sanzioni nei confronti della società tecnologica cinese Huawei. In quanto si pensava che questa società utilizzasse tecnologie statunitensi per adoperare delle politiche di spionaggio in favore del governo cinese. Così vengono tagliate molte delle forniture nei confronti della questa società. Così Huawei decide di aumentare ulteriormente la domanda di componenti in modo da cercare di sopravvivere le sanzioni statunitensi e tutto ciò mette ulteriori pressioni a tutto il comparto di produzione dei semiconduttori. Ciliegina sulla torta clima! Infatti la produzione di semiconduttori richiede un grande utilizzo di acqua e Taiwan, dove è presente la TSMC, sta subendo uno dei periodi di siccità più importanti da 58 anni a questa parte e quindi ci sono numerose preoccupazioni sulla sostenibilità del processo di produzione di questi semiconduttori. Dall'altra parte del mondo invece il Texas qualche settimana fa è stato colpito da una grande tempesta di freddo che ha costretto numerose imprese a chiudere. Tra queste c'è stata una fabbrica della Samsung che è responsabile addirittura del 5% di produzione al mese globalmente di un particolare tipo di semiconduttore. Quindi praticamente c'è un'elevata domanda e una produzione che arranca a sostenere questa domanda. Il settore più colpito da questa mancanza di semiconduttori è quello dell'auto. Lo so è incredibile sentirselo dire in quanto forse l'auto è l'elemento più meccanico che possiamo concepire. Insomma è fatta da quattro ruote e delle assi che collegano queste quattro ruote, un motore e un volante. Eppure con gli anni le auto sono diventate sempre più tecnologiche e utilizzano sempre di più dispositivi digitali e appunto anche i semiconduttori. Basta pensare ad esempio alla telecamera che ti aiuta a parcheggiare oppure gli ADAS che sono dei sistemi che ti aiutano durante la guida. Questa crisi del settore auto che secondo gli analisti potrebbe generare nel solo 2021 una perdita di 61 miliardi di dollari è dovuta alla pandemia ovviamente in quanto nei primi mesi c'è stato un grande crollo della richiesta dell'auto e quindi i produttori di auto hanno iniziato a diminuire la richiesta anche di semiconduttori in quanto pensavano che la domanda di auto sarebbe stata bassa per lungo tempo. In realtà la domanda di auto ha subito un picco subito dopo. Questa ripresa del settore improvvisa ha lasciato i produttori d'auto spiazzati e quindi hanno ricominciato a chiedere i semiconduttori. Peccato però anche a caso dei motivi che dicevamo prima il settore auto è rimasto praticamente all'ultimo posto della fila nei confronti della produzione dei semiconduttori e così siamo arrivati a marzo 2020 con intere fabbriche sia in Europa che negli Stati Uniti che sono state costrette a chiudere a causa proprio della mancanza di semiconduttori e quindi dovranno aspettare i nuovi rifornimenti di semiconduttori per poter far ripartire la produzione di auto. Cioè immaginate Ford che non riesce a produrre un'auto a causa di un chip. Questa cosa mi fa esplodere il cervello ed è super interessante. Tra l'altro negli ultimi giorni una fabbrica giapponese specializzata in semiconduttori nel settore automotive ha preso fuoco e quindi si pongono ulteriori problemi alla produzione di semiconduttori per il settore automotive. Ma questa crisi dovuta ai semiconduttori potrebbe espandersi anche agli altri settori. Infatti la stessa Samsung ha dichiarato che ci possono essere delle buone possibilità che ad esempio il lancio del nuovo Samsung Note, uno dei cellulari più venduti della Samsung, possa essere rimandato a causa proprio di questa mancanza di semiconduttori. E allo stesso modo del Samsung Note tanti altri dispositivi potrebbero trovare nel prossimo futuro non poche difficoltà nel riuscire a raggiungere i consumatori. Dalla PlayStation ai computer eccetera insomma è estremamente interessante tutto ciò. E qui però vi potreste dire vabbè ma che problema c'è? Per risolvere questa situazione basta aprire nuovi impianti per produrre nuovi semiconduttori e il problema è che è molto più complesso di così. Non so se avete mai visto una fabbrica che produce semiconduttori. Sembra provenire dall'area 51, sono degli ambienti sterilizzati dove non può entrare neanche un granello di sabbia e dove le persone sono super bardate. E gli investimenti per costruire queste fabbriche sono enormi. Inoltre le tecnologie utilizzate per costruire queste fabbriche di semiconduttori non sono assolutamente banali. Infatti spulciando nell'internet ho scoperto che le fabbriche più avanzate e quindi più competitive riescono ad ottenere 9 semiconduttori buoni su 10. Praticamente un conduttore su 10 viene buttato e stiamo parlando dell'eccellenza che è estremamente difficile raggiungere. Arrivati a questo punto e con mia grande sorpresa mi sono imbattuto in un problema geopolitico. Come abbiamo detto infatti i semiconduttori sono alla base di qualsiasi dispositivo tecnologico che andremo a utilizzare sempre più spesso. Inoltre con l'avvento del 5G e con l'internet of things tutti i dispositivi ormai andranno a essere sempre più digitalizzati dal frigorifero al tostapane eccetera eccetera quindi diventeranno sempre più cruciali questi semiconduttori. Inoltre i semiconduttori sono estremamente fondamentali anche nel reparto militare. Banalmente non puoi costruire un aereo militare se non hai dei semiconduttori e come abbiamo visto questo settore è estremamente concentrato in poche aziende asiatiche Samsung e TSMC principalmente e qui nasce tutto il contesto geopolitico. Infatti qualche settimana fa Biden ha dichiarato come questi componenti siano strategici per gli Stati Uniti e ha aperto un sacco di incentivi affinché numerose aziende possano iniziare a produrre questi componenti all'interno del territorio statunitense. Dall'altra parte la Cina ovviamente vuol diventare egemone in questo settore e diventare indipendente e autosufficiente. Dall'altra parte anche l'Unione Europea vuole ottenere un certo grado di libertà in questo contesto e quindi creare un polo dedicato a questi componenti in modo da essere indipendente dalle altre nazioni. E quindi da una banalissima domanda mi si è aperto un mondo super affascinante pieno di implicazioni collegamenti eccetera eccetera che ho cercato di riassumervi brevemente in questo video. E io ancora mi chiedo come mai all'interno dell'opinione pubblica italiana non si stia parlando di questi argomenti in quanto i dispositivi digitali tecnologici e di conseguenza anche queste componenti saranno sempre più fondamentali in futuro e ovviamente ci deve essere un'attenzione di riguardo in questo senso. Ragazzi spero di avervi interessato almeno un minimo a me affascina un sacco questa queste cose qui e cercherò in futuro anche di approfondirlo anche per la mia conoscenza personale. Detto ciò ringrazio gli abbonati per sostenere questo programma di divulgazione economica e ci vediamo alla prossima puntata di Whatsapp Economy e ricordatevi e questo è da molto che non lo dico che se non vi occupate di economia l'economia si occuperà di voi. Alla prossima ciao